Credo che i bambini e i giovani dovrebbero avere la possibilità di seguire i loro sogni, di esprimere liberamente i propri sentimenti, pensieri ed esperienze in modo aperto e creativo. Questo è il motivo per cui ho fondato la Elisa Sednawi Foundation per dare ai bambini e ai giovani questo tipo di opportunità. Così Elisa Sednawi, 28 anni, presenta oggi a Bra la fondazione che porta il suo nome. L'idea è quella di creare un modello di centro culturale che offra corsi dopo scuola per bambini dai 6 ai 16 anni, corsi che si concentrano sull'arte in senso largo, cioè dalla recitazione alla pittura, alla fotografia, alla musica, alla cucina, al riciclaggio, passando anche per due aspetti più tradizionali dell'educazione, le lingue straniere e l'alfabetizzazione. Dal 23 al 29 maggio a Bra sarà attivo un seminario per adulti e un workshop per 100 ragazzi, su iniziativa proprio dell'Elisa Sednawi Foundation e del Comune di Bra. Saranno loro a sperimentare un workshop con registi, artisti, cantanti, musicisti e fotografi per aiutarli a liberare a pieno la loro creatività senza col timore di uscire fuori dagli schemi. Al seminario parteciperanno anche alcuni operatori dei punti luce di Save the Children di Torino, Genova, Bari e Roma, centri per il contrasto della povertà educativa. Sarà garantita così un'esperienza unica per sperimentare tutte le forme d'arte, fornendo ai ragazzi qualche tassello in più per comporre il puzzle in grado di dare risposta alla domanda delle domande. Chi sono io in questo mondo? Domanda che farà da filo rosso alle diverse attività che saranno programmate in un'intensa settimana densa di stimoli e nuove esperienze. La fondazione, creata dall'attrice e modella Elisa Sednawi, cresciuta tra il Cairo, Luxo e Bra, progetta e sostiene programmi extrascolastici di educazione artistica per bambini e giovani allo scopo di incoraggiare innovazione, eterogenità e realizzazione personale attraverso la creazione di contesti dove i bambini e i adulti siano liberi di esprimere le loro opinioni ed emozioni. Il workshop si svolgerà al movicentro di Piazza Caduti Nassiria, vicino alla stazione ferroviaria. Per chi fosse interessato a partecipare al percorso di formazione per gli adulti, nelle prossime settimane il modulo di iscrizione sarà pubblicato sui siti dell'Elisa Sednawi Foundation e del Comune di Bra e verrà data la massima diffusione attraverso i canali sociali ufficiali. Ti abbiamo vista emozionata, coinvolta tanto oggi. L'abbraccio che ti ha dato la città è venuto fuori in modo positivo. Un progetto ambizioso è quello di far partire questa fondazione che apre l'arte a 360 gradi ai ragazzi dai 4 fino ai 16 anni. Quindi se vuoi raccontarci in modo sintetico quello che è questo progetto che parte con questo workshop a fine maggio con l'obiettivo poi di continuare a partire dall'autunno. Allora l'idea della fondazione è nata per creare opportunità di apprendimento creativo ai giovani cioè noi vogliamo creare centri culturali che sono proprio come dei centri dopo scuola dove un'alternativa, un'opzione dove i genitori possono mandare i giovani e dove i giovani possono avere accesso a lezioni d'arte di livello molto alto per cui veramente lavorare su un curriculum grazie all'esperienza un po' degli artisti con i quali collaboriamo ma anche quella che raccogliamo intorno al mondo per veramente creare tutto un programma di attività che sono molto concrete. Noi non crediamo soltanto in un approccio intellettuale noi crediamo che veramente l'apprendimento e la maniera di poter diventare anche più flessibili il lavoro che si può fare si fa attraverso l'esercizio concreto. La maniera in cui noi operiamo per arrivare a quello scopo è noi formiamo degli operatori locali, ovviamente in Italia lavoriamo con degli educatori già formati però rafforziamo la loro formazione e veramente entriamo in coesione nella maniera di lavorare per cui la formazione degli adulti. Poi facciamo questi workshop nazionali e internazionali li chiamiamo in cui facciamo venire artisti nazionali e internazionali che durante una settimana vengono a condividere la loro esperienza e la loro conoscenza e la quarta cosa che facciamo ma che in realtà racchiude tutto quello che abbiamo detto è che noi creiamo i nostri curriculum e il nostro metodo per cui c'è tutto un lavoro che è proprio nostro di programmi, di contenuti che sono quelli della classe settimanale ma sono anche quelli del workshop perché quando invitiamo degli artisti noi dobbiamo creare la struttura perché gli artisti possano venire a insegnare.